C'era una volta un principe vedovo, il quale aveva una figlia così cara che non vedeva per altri occhi, dimostrandole tanta affezione che non bastano le parole. Ma essendosi il padre rammogliato di fresco, e avendo pigliato una rabbiosa, malvagia e maligna indemoniata, questa maledetta femmina, cominciò ad avere in fastidio la figliastra, tanto che la povera piccolina si lagnava sempre con la sua maestra dei maltrattamenti che le faceva la matrigna. — Oddio, diceva Zezolla, così si chiamava la fanciulla, ma non potresti essere tu la mammarella mia che mi fai tanti broccoli e moine? E tanto continuò a fare questa cantilena, che messole un vespone nell'orecchio, quella accecata da un diavolicchio, una volta le disse, e se tu vuoi fare a modo di sta capa pazza, e io ti sarò mamma, e tu mi sarai cara come le visciole di questi occhi. Zezolla la interruppe. Perdonami se ti spezzo la parola in bocca, io so che mi vuoi bene, perciò smaliziami nell'arte che vengo da fuori. Tu scrivi, io firmo. — Orsù, replicò la maestra, sentimi bene, apri le orecchie e te ne verrà un pane bianco come i fiori. Quando tuo padre esce, di alla tua matrigna che vuoi uno di quei vecchi vestiti che stanno dentro il cassone grande del ripostiglio, per risparmiare questo che porti addosso. Lei, che vuole vederti tutta pezze e stracci, aprirà il cassone e ti dirà, tieni il coperchio, e tu tenendolo, mentre lei andrà rovistando l'addentro, lascialo cadere di botto, così si romperà il collo. Dopodiché, tu sai che tuo padre farebbe monete false per accontentarti, perciò, quando ti accarezza, pregalo di pigliarmi per mogliera. Che beata te, sarai la padrona della vita mia. Dopo aver sentito questo, a Zezolla ogni ora parve mille anni. Eseguì dunque appuntino il consiglio della maestra, e dopo che si fece il lutto per la disgrazia alla matrigna, cominciò a toccare i tasti al padre affinché si sposasse con la maestra. Dapprima il principe la pigliò a burla, ma la figlia tanto tirò di piatto finché non colpì di punta, ed egli all'ultimo si piegò alle parole di Zezolla, e pigliatasi per mogliera carmosina, che era la maestra, fece una festa grande. Ora, mentre gli sposi frascheggiavano, affacciatasi Zezolla a un gaifo della casa sua, una palombella, volata su un muro, le disse Rrrr, 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 quando ti viene voglia di qualcosa, manda a chiederla alla palomba delle fate nell'isola di Sardegna, che l'avrai subito, hai capito? Rrrr, 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 rrrr. La nuova matrigna per cinque o sei giorni affumicò di carezze Zezolla, facendola sedere al miglior posto della tavola, dandole i migliori bocconi, mettendole i migliori vestiti. Ma passato a malapena un po' di tempo, mandato a monte, e scordatasi affatto del servizio ricevuto, oh trista l'anima che amma la padrona, cominciò a mettere sul cocuzzolo sei figlie sue, che fino ad allora aveva tenuto segrete, e tanto fece che al marito prese in grazia le figliastre, e cadde dal cuore la figlia propria. Tanto che scapita oggi, manca domani, finì che Zezolla si ridusse dalla camera alla cucina, cambiando non soltanto di stato, ma anche di nome, giacché non più Zezolla fu chiamata, ma gatta cenerentola.